ciao a tutti oggi per voi la review dell'ultimo attesissimo prodotto di casa samsung abbiamo qui l'ultimo arrivato della grande famiglia galaxy galaxy s3 mini dopo galaxy note 2 e galaxy s3 abbiamo galaxy s3 mini eccolo qui andiamo a vedere come è fatto come vedete si tratta di una versione ristretta di galaxy s3 e quindi ne muto alle forme anche la disposizione dei tasti di fatti abbiamo qui il tasto per aumentare ed abbassare il volume abbiamo qui il tasso di accensione spegnimento fotocamera con flash inserimento jack audio e inserimento cavo micro usb per la ricarica o per la connessione al pc come vi dicevamo galaxy s3 mini nonostante le dimensioni ridotte ha prestazioni assolutamente paragonabili a quelle dei fratelli maggiori vediamo per esempio cosa succede se apriamo un video e proviamo a divertirci con la funzionalità di picture in picture che permette di ridurlo a dimensioni minime e di continuare a vedere il video mentre effettuiamo qualsiasi operazione vogliamo con i nostri termi terminali vodafone dimensioni ridotte rispetto ai fratelli maggiori della famiglia galaxy non stanno assolutamente a significare per galaxy s3 mini delle prestazioni tecniche non all'altezza difatti questo telefono con uno schermo 4 pollici 480 per 800 super amoled 16 milioni di colori è dotato di caratteristiche tecniche che assolutamente non sfigurano con galaxy s3 o galaxy note 2 abbiamo con uno spessore di 9 85 millimetri un peso di 120 grammi una memoria interna da 8 gigabyte espandibile con micro sd una fotocamera integrata da 5 megapixel con flash e zoom e la piattaforma android 4.1 jelly bean per quello che riguarda la connettività il telefono ha una connettività hsdpa a 14.4 ed è assolutamente dotato di bluetooth gps wifi integrato per quello che riguarda l'architettura processore abbiamo un dual core da un gigahertz per quello invece che concerne batteria autonomia abbiamo una batteria da 1500 mAh che consente in conversazione un'autonomia di 430 minuti e in standby un'autonomia di 430 ore particolare importante il telefono monta una sim standard è tutto per oggi per galaxy s3 mini ci rivediamo alla prossima review ciao